Sì, sono molto emozionato di poter iniziare questa nuova avventura con il coach che lo sto conoscendo, sta andando molto bene e non vedo l'ora di iniziare. Diciamo che la città è molto bella, stiamo visitando un po' di ristoranti, un po' di posti della città e con la squadra stiamo cercando di creare la chimica giusta per poter andare avanti e poter fare il meglio in questa stagione. Qui presentiamo a Kevin, un giocatore molto importante per noi, giocatore che sicuro che farà divertire a la gente, che senza dubbio sarà una delle grandi novità che vedremo quest'anno al Parabarbuto.